I momenti in cui si inaugura qualcosa o si colloca una prima pietra sono sempre momenti di festa per una famiglia e anche ovviamente per una città. Ecco perché oggi per Gorizia è un momento di gioia, un momento di festa. Abbiamo simbolicamente collocato la prima pietra di quello che sarà un percorso ciclabile importantissimo a Gorizia che connetterà le ciclabili di Gorizia con quelle d'oltre confine in Slovenia. Perciò da Nuova Gorizia a Scempette-Vertoiba, dalla passerella realizzata a Salcano fino all'area turistica realizzata un anno e mezzo fa, due anni fa a San Pietro-Vertoiba nell'ambito di quella valorizzazione, quel percorso di valorizzazione del parco naturale del fiume Isonzo realizzato dal GECT in collaborazione con i T3 comuni. Complessivamente saranno decine i chilometri di piste ciclabili che saranno interessati. Per quanto riguarda Gorizia, dal confine con Nova Gorizia all'altezza delle casermette più prossime a Salcano, via degli Scogli, tutta quella zona ambientale, la zona prospicente fiume Isonzo, fino via Cordaioli, via Leventisettembre che arriva fino al centro della città, Corso Verdi, tante perciò saranno le vie che ci consentiranno di promuovere di più il verde, promuovere di più l'Isonzo, promuovere di più Gorizia dal punto di vista turistico. Perciò la possibilità, abbiamo impiegato tempo naturalmente perché tempo ci vuole per la progettazione, tempo ci vuole per gli espropri, ma oggi, ripeto, finalmente primo mattone. Una rivisitazione a breve che dovremo fare a Gorizia, non soltanto dei ciclabili, nell'ambito dei biciplane, ma anche del piano del traffico, anche degli spazi pedonali. In sostanza, la Gorizia del futuro, quella che tutti insieme costruiremo, letteralmente mano nella mano, una città, una Gorizia sempre più appetibile, una città sempre più vivibile, una città sempre più bella. Grazie.